Attenti ai rifiuti selvaggi, un allarme che noi di Rete Veneta abbiamo lanciato già molte volte nel corso dei nostri telegiornali, anche grazie alla raffica di segnalazioni che arrivano in redazione quotidianamente. Ormai abbiamo documentato il degrado attorno ai bidoni della spazzatura in tutta Vicenza. L'ultimo caso ci viene indicato da Alessandro, un nostro telespettatore, che ha anche scattato alcune foto che dimostrano bene qual è la situazione in via Brocchi. Et voilà, può partire questa vergognosa carrellata di immagini che raccontano, più di tante parole, come i rifiuti vengano abbandonati per strada, accanto alle campane del vetro o ai bidoni dell'immondizia, un po' per inciviltà e maleducazione, un po' per mancata integrazione degli stranieri, ma anche di alcuni italiani, e un po' perché a volte i bidoni sono già pieni, saturi, e quindi non danno la possibilità di conferire altri rifiuti. Incredibile ma vero, ecco ora il record della settimana. Un cartello stradale di qualche pista ciclabile buttato in un angolo, vicino a un cassonetto. Noi, da parte nostra, continuiamo a trasmettere le immagini che riceviamo dai cittadini e invitiamo AIEM a prendere urgenti provvedimenti. Non si può continuare così. E allora portiamo la questione al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, per chiedergli un impegno con Rete Veneta. Insomma, la raccolta va cambiata, così non va. No, l'abbiamo criticata anche noi in passato, dai banchi dell'opposizione, quindi credo che la raccolta vada riorganizzata da parte di AIEM e Valore Ambiente in particolare. Ci vorrà del tempo perché evidentemente c'è anche molta maleducazione, molta inciviltà da parte di chi sporca e lorda la città. Devo dire che sto ragionando anche nell'immediato, su un piano di pronto intervento, in maniera tale da raccogliere immediatamente le richieste di intervento dei cittadini che trovano queste situazioni, invitandoli a farlo e noi far intervenire con una squadra ad hoc per le pulizie immediate e Valore Ambiente. Anche noi gliene porteremo di queste testimonianze perché molti cittadini ci chiamano. E noi faremo ripulire la città. Bene, l'idea ci pare buona. Attivare una squadra di pronto intervento che entra in azione direttamente su segnalazione dei cittadini per rimuovere l'immondizia selvaggia laddove viene abbandonata per terra. Noi aspettiamo di vedere questa o altre soluzioni. Fino ad allora, purtroppo, il problema continua.